Oggi abbiamo presentato una pizza senza lievito aggiunto, quindi utilizzando la farina di grano saraceno germinata, che fa partire una fermentazione. Il topping è stato fatto con mozzarella, casatella trevigiana di OP, soppressa di centina di OP, da asparago di bassano bianco di OP, delle chips di polenta fatte con la farina di mais bianco perla. In abbinamento abbiamo proposto il Prosecco Doc, che per quanto riguarda la pizza è l'abbinamento ideale, perché avendo due tipologie di formaggio, quindi a pasta bianca e molto grassa, avendo anche la soppressa sempre con salume grasso, va a portare via tutta la grassezza che ci rimane in bocca e quindi a riequilibrare il gusto e le papille gustative. Il Prosecco svolge perfettamente questa funzione ed è l'abbinamento ideale con la pizza. Grazie. 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 Grazie.